Andiamo adesso a presentare cos'è Angera Doc, poi dopo torneremo a risalutare ancora qualche altro ospite che è qui con noi. Dicevo prima appunto che riprendono, non faccio come nei varietà, come si chiamano, le fiction, che quando c'è la seconda puntata riprendono il sommario della prima, se no non vediamo più. Stavamo parlando di sintesi delle due liste, da qui è nata Angera Doc. Io qui, come vedete, sarò molto morigerato nell'usare, non sopporto quelli che ne hanno 100.000, fino adesso non le abbiamo ancora usate, ne faremo un uso moderato. Iniziamo a vedere appunto il motto che ci siamo dati, che spiega il perché di quell'acronimo italiano, non inglese, del Doc. E cioè valorizziamo la nostra città, la sua storia, la sua cultura, il suo paesaggio. E poi c'è una frase, tradizione e progresso, che può sembrare, come dire, che accorpi due parole un po' in contrapposizione. Doc nasce per questo motivo. Farò un po', non so se ci sono degli enologi qui in sala, che possono essermi di supporto. C'è proprio una metafora, c'è un parallelo proprio col vino, è proprio voluto questo. Nel senso che voi sapete, quando un vino acquisisce valore, attraverso un percorso, un processo, che segue dei passi ben precisi, viene valorizzato e prende il marchio Doc, dopo un certo periodo. E il Doc è un po' il simbolo della massima valorizzazione per un vino. Doc è Angera, noi vogliamo un'Angera che diventi Doc, nel senso che vogliamo rilanciarla, valorizzarla, seguendo delle regole ben precise. Seguendo le regole ben precise vuol dire facendo leva alle caratteristiche paesegistiche del territorio. Quindi senza snaturarla e stravolgerla, ma allo stesso tempo che questo non venga visto come un aspetto conservativo, rilanciandola con una grande, grande determinazione. Vogliamo appunto che diventi Doc. Per questo tradizione da un lato e progresso dall'altro. Perché vogliamo progredire, ma secondo dei criteri ben specifici. Di sicuro non vogliamo stare fermi, vogliamo dare una forte, una forte, un forte rilancio al paese. Per questo tradizione e progresso insieme, per questo la metafora con il vino. Poi oltre al titolo Angera Doc, forse avrete visto che ci sono... Pardon? No, scusate, ecco, non stavo sentando questa slide. Qui si spiega più in dettaglio un altro aspetto del vino, per continuare la metafora. L'equilibrio. Spesso di un vino si dice strutturato e equilibrato. Anche qui, ricalchiamo un po' la metafora, vogliamo un paese equilibrato. Nel senso che dobbiamo essere capaci di rilanciare al contempo gli aspetti turistico, economico, commerciali, ma allo stesso tempo vogliamo dedicare molta attenzione all'aspetto sociali e ai giovani. Abbiamo già iniziato a parlare, in realtà. Mi piace che già nel parlare stiamo portando avanti alcune delle cose che sono su questa slide. Il tutto facendo cosa? Io ho sentito un po' in giro una cosa che mi lascia un po' perplesso, e cioè il fatto che dobbiamo puntare all'ascolto. Ho creato un attimo di silenzio, questo è pazzo, non bisogna ascoltare le persone, ma mi diverte fare un po', tenere viva l'attenzione. È limitativo. Quando si amministra bisogna assolutamente ascoltare le persone, ma allo stesso tempo devi informare di quello che fai. Spesso non c'è di nuovo equilibrio. Spesso si tende ad ascoltare le persone, tantissimo, perché fa bello vedere che io ascolto le persone, ma poi non si dà un ritorno. Spesso a volte, anche nelle migliori delle ipotesi, poi non si spiega bene quello che sta avvenendo. Per cui la comunicazione deve essere a due vie. Certo che devo ascoltare, io lo darei quasi per scontato. Il sindaco è la figura istituzionale più vicina ai cittadini. Io lo darei per scontato che è a disposizione dei cittadini. A volte alcuni mi dicono, devi rimarcare, no? Tu ti sei messo in aspettativa, hai tanto tempo, la tua porta è aperta, devi dirlo ai cittadini. Sì, ok, lo posso, grazie, lo dico. Ma io lo darei quasi per scontato. Ma ci mancherebbe. La cosa forse un po' più difficile, e questo è un impegno, e oltre a una cosa che è sacrosanta di ascoltare le persone, vogliamo migliorare molto l'aspetto comunicativo, informare le persone. Perché poi questo rinforza anche l'ascolto. Perché se io informo bene, capiscono anche i problemi che abbiamo e quello che stiamo facendo, viene anche più facile ascoltare, perché anche le cose che sentiamo sono più in linea con quello che stiamo facendo. E quindi si viaggia insieme. Spesso non c'è equilibrio. Poi, andiamo avanti, e parliamo della parte seconda del logo. Tutte le cose che vi ho detto prima, sono nate non a caso. Cioè del fatto che vogliamo avere, no? Una gestione equilibrata, turismo, commercio. Sono tutte parole che abbiamo raccolto in questa lunga esperienza. Mi ha fatto piacere anche gli interventi di prima che hanno, sono arrivato, no? Mi sembra che si sia capito lo sforzo immane che è stato fatto in questi mesi. Questi mesi di lungo dialogo. Nel mese di marzo poi abbiamo organizzato anche dei ritrovi con alcuni di voi. e ho chiesto ai propri cittadini di parlare dei vari aspetti. Abbiamo suddiviso questi ritrovi in puntate. Abbiamo dedicato la prima puntata alle esigenze da un punto di vista turistico commerciale. Quindi il rilancio del paese da questo punto di vista. Seconda puntata era sugli aspetti relativi allo sport, alla viabilità, all'ambiente. E infine abbiamo chiuso con una puntata dedicata ai servizi alla persona. Quindi cosa si fa per gli anziani, servizi sociali, sanità, eccetera. Bene, in queste puntate abbiamo ascoltato. Non abbiamo informato delle attività svolte perché non siamo ancora in un'amministrazione. in questo caso abbiamo ascoltato. E quello che vedete nel logo, innanzitutto la forma che vedete è stata ricavata dalla forma di Angera. La forma proprio prende Angera, Barzola, Capronno. E quindi questa forma che sembra quasi una specie di volante, di bistretto. Come le nuvole, ognuno ci vede quello che vuole. Questa forma, che adesso così la faccio vedere meglio, è proprio il territorio comunale di Angera. E appunto, come è evidenziato, le parole sono state proprio le cose che abbiamo raccolto in questi mesi di lavoro. Questa nel gergo, come dire, di chi utilizza questo modo di espressione, si chiama word cloud, cioè nuvola di parole. E le parole più grosse sono quelle che si sono discusse di più, sono state più volte ripetute. Questo quindi è il logo, che a video sembra un grigio sbiadito, ma è un bello azzurro acceso, come vedete qui. Questa è Angera Doc, quindi qual è la filosofia, il perché si chiama così, e un po' anche il simbolo, credo, che sintetizzi il lavoro che abbiamo già svolto fino ad oggi. Grazie. Grazie.